Musica Buongiorno, buon inizio di mattinata, occhio ai giornali, sfoglieremo come sempre i quotidiani in edicola le tre testate che prenderemo in considerazione come sempre messaggero, resto del carlino e corriere adriatico prima di fare questo però, previsioni del tempo e il santo del giorno, oggi è venerdì 31 luglio, l'ultimo giorno del mese di luglio Sant'Ignazio di Loyola, sacerdote, il sole è sorto alle 5.55 e tramonterà alle 20.34 Previsioni del tempo e tempo attuale anzi con la nostra postazione meteo, vedete le temperature questa mattina sono sensibilmente più basse rispetto a quelle di ieri siamo a 22 gradi e poco più, è salita l'umidità e quindi aumenta anche la pioggia, quindi fa la comparsa, la simbologia delle goccioline d'acqua vediamo la fotocamera della nostra postazione, che cosa ci rimanda? Ci rimanda questa webcam, un cielo plumbeo e carico di nubi e quindi questo è quello che è allo stato attuale delle cose, vediamo le previsioni per il weekend, si annuncia un weekend sicuramente non all'insegna del tempo bello per lo meno bellissimo, non ci sarà sole terzo tutti i giorni, cielo appunto irregolarmente nuvoloso nella prima parte della giornata con locali addensamenti e più intensi e attuazione della copertura nel corso del pomeriggio quindi nel pomeriggio migliorerà la situazione, rovesce temporali sparsi nella prima parte della giornata le temperature naturalmente in diminuzione, domani la simbologia della pioggia compare solo sui rilievi nella parte bassa della regione, quindi nuvoloso in mattinata, nel pomeriggio un incremento però della nuvolosità da est quindi insomma ci sarà un accrescimento dei fenomeni nuvolosi, rovesce temporali nella seconda parte della giornata però come vedete più probabile nel settore settentrionale, le temperature riprenderanno a risalire, domenica vedete insomma anche qui ricompare la pioggia, tratti nuvoloso e irregolarmente nuvoloso il cielo, sparse localmente anche a carattere di rovescio le precipitazioni, le temperature saranno lì come gradi però insomma vedete il weekend non è bellissimo la tendenza dei giorni successivi quale sarà, probabili condizioni di tempo stabile sulle marche e in gran parte per la prossima settimana quindi le temperature anche in rialzo, quindi molto probabilmente ci avviamo verso una settimana un po' più di bel tempo ma il weekend sarà così. Ieri è stata ancora in scena il delitto Lulli, è stata la giornata dell'incidente probatorio messi a confronto i tre, i due ragazzi, Macedoni e la ragazza appunto Ambra che aveva scritto quei messaggini hanno fatto quelle dichiarazioni, messi a confronto per vedere se c'erano contraddizioni la posizione di Ambra non è cambiata, resta teste, quindi nessuna contraddizione nelle sue dichiarazioni e quindi il messaggero, apriamo con il messaggero Pesaro che appunto apre in testa di pagina con questo titolo delitto Lulli, Ambra resta teste, la fidanzata di Igli non è indagata dopo sei ore di faccia a faccia per chiarire la sua posizione rimaniamo sempre sulla prima pagina del messaggero, emergenza rifugiati, il comune di Pesaro con l'associazione Labirinto e Hauser sono soddisfatti del progetto, è un modello virtuoso, lo dovremmo imitare quindi funziona, i lavori socialmente utili e il modo di integrazione scelto per questo tipo di accoglienza e poi naturalmente il tempo, come sempre Massimiliano Fazzini dice tempo instabile e piogge piogge che forse non sono graditissime però fanno molto bene perché avete visto in questi giorni sui giornali anche noi ve ne abbiamo dato notizie, le delibere dei sindaci di Pesaro e di Fano per le riserve idriche che erano a rischio, adesso speriamo che magari con queste piogge di questi giorni la situazione si ristabilisca perlomeno si esca da una possibile emergenza rimaniamo nel messaggero, vediamo l'altra pagina che riguarda Pesaro questa del casellino ve la rifaccio vedere da un'altra parte spiaggia dei cani cede il posto a un dog park quindi non si farà la spiaggia dei cani però si crea un progetto per il dog park un'area specifica a Baia Flaminia potrebbe essere l'alternativa alla contestata ipotesi di Villa Marine poi una voce fuori dal coro per il palio dei braceri a parlare è Luciano Baffioni Venturi che dice ok bellissima l'iniziativa però non ha una matrice storica e quindi con il palio dei braceri si festeggia il nulla una bella iniziativa però che non ha una matrice storica c'erano altre possibilità per Pesaro di collegarsi a un evento che avesse una matrice storica quindi insomma c'erano altre occasioni però alle volte non si conosce la storia del proprio comune la storia del proprio territorio e quindi dice eppure c'erano altre revocazioni storiche collegarsi come il torneo che si tiene nell'odierna Porta Rimini per le nozze degli Sforza quindi il comune finanzia qualcosa che in realtà è soltanto così una goliardata perché non c'è matrice storica, cinque anni fa insomma dei ragazzi hanno dato vita a questo palio dei braceri che però insomma piace tanto ecco vedete ritorniamo sul delitto di Ismaele Ambera esce indenne dal faccia a faccia la fidanzata di Igli non è indagata perché la sua posizione ci sono volute sei ore di confronto e il messaggio l'ha inviato lei dal suo cellulare però pensava a un chiarimento domani Mario, sarebbe oggi, chiede di essere sentito dal PM quindi farà delle dichiarazioni spontanee sotto la croce dove lo studente è stato ucciso la ragazza ha ammesso il tradimento ancora nel messaggero guardiamo quella di Fano come pagina sapete che c'è stato un caso di annegamento che in questi giorni rincorre nelle notizie la donna è ricoverata in gravi condizioni lotta per la vita e la morte nel reparto di rinimazione dell'ospedale di Fano ed è stata soccorsa in mare però il parcheggio selvaggio ha intralciato il 118 che è arrivato in quella zona quindi dopo Gimarra l'altro episodio è quello dell'Arzilla e ora si deve ricorrere ai ripari per evitare che ci siano conseguenze gravi perché la donna è stata soccorsa è stata rianimata è stata portata in vita all'ospedale anche se in gravi condizioni però sono riusciti ad operare però i minuti sono minuti cruciali che possono fare la differenza tra la vita e la morte di una persona e quindi i soccorsi devono essere rapidi veloci e soprattutto non devono avere questo tipo di intoppo intervento appunto per ricavare sulla ciclabile una corsia per i mezzi di pronto intervento Marchegiani dice il vice sindaco sanzioni pesanti per i trasgressori perché insomma abbiamo a che fare con la vita delle persone non è solo un parcheggio un'auto messa male o una bicicletta o quello che è di spalla andiamo a Marotta per una bella iniziativa per insomma allertare contro i furti i raggiri i cittadini ne è protagonista il Comune in collaborazione con il luogotenente Barrasso quindi con i carabinieri che ora dirige la centrale stazione di Fano ma ha un vissuto molto molto importante a Marotta quindi sarà lui che in collaborazione con il Comune metterà in campo questa staffetta per fare un'opera di sensibilizzazione e per mettere in guardia dai possibili trucchi che i malfattori mettono in campo per raggirare come la donna insomma che avete visto questi giorni è stata riarrestata per la seconda volta cambiamo testata andiamo nel Corriere Adriatico spiaggia nella pagina di Pesaro spassano i ristoranti ma non i cani le associazioni di ticoria soddisfatte del piano per gli animali a Baia Famiglia è un rigido no e quindi si vedrà come optare che cosa fare due le opzioni per la realizzazione dei chioschi proposta per la sicurezza degli arealini liberi e cantieri Marche Nord gli ospedali tutto pronto tra un anno sarà tutto diverso Ricci dice interventi strutturali sia al San Salvatore che al Santa Croce quindi sia per l'ospedale di Pesaro e quello di Fano e appunto vedete anche qui in testa di pagina manutenzione del verde altri 22 profughi al lavoro sembra questo essere una metodica che funziona grazie appunto alla collaborazione con l'Auser due ragazzi correranno anche con muraglia al palio dei braceri quindi insomma vedete il palio dei braceri può essere anche una occasione di integrazione spiaggia spiagge libere piano di sicurezza siamo nella pagina di Fano per il Corriere Adriatico il Comune ha appaltato il servizio di assistenza all'associazione incoming in azione nove bagnini per le spiagge libere i controlli saranno fatti a Baia del Re all'Arzilla allo Chalet del Mar e all'Arena dei Cani e a Sassonia Sud l'Arena dei Cani appunto che è stato il teatro di quella sventurata episodio della donna appunto della turista che ha rischiato di annegare che era riportato appunto nell'altra pagina e appunto di spalle ha riportato proprio il caso rischia di annegare speranze però per la turista si è risalito la sua identità grazie alla borsa che era rimasta incustodita dopo che tutti i bagnanti se ne erano andati via ed era la sua tal di lì c'erano i documenti si è risaliti alla sua identità adesso qui sono a Fanno anche i suoi parenti e insomma si è accesa una dopo le prime ore molto 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 preoccupanti si è accesa un fiebile lumino di speranza per le sue condizioni di salute entrate a rischio chiusura è così il titolo per quanto riguarda l'agenzia delle entrate che da Fano dovrebbe eventualmente andare a Pesaro in tema di spending review ma il sindaco di Fano Massimo Seri è passato al contrattacco prima che arrivino comunicazioni ufficiali lui ha fatto una controproposta anziché andare Fano a Pesaro visto che ormai il bacino di Pesaro è più basso rispetto a quello di Fano perché non vengono quelli di Pesaro a Fano nella caserma che è un posto dove si possono collocare diversi uffici tra cui anche la caserma di Carabinieri insomma tante ipotesi per la caserma Paolini e quindi insomma il primo cittadino di Fano è passato al contrattacco con una controproposta e poi ricatta un imprenditore lo contatta su Facebook dopo essere entrato in possesso della refurtiva per cercare di ridargli la roba previo contante quindi insomma una forma di ricatto si chiama cavallo di ritorno è molto usato al sud con automobili mezzi furgoni mezzi insomma di importo consistente qui eravamo al cospetto di un telefono cellulare e di un tablet quindi la cifra era irrisoria però comunque chiedeva 200 euro per ridare indietro il maltolto insomma è stato incastrato dai carabinieri che si sono finti dei parenti e lo hanno ammanettato nel mentre voleva appunto ridare il tablet allo sventurato insomma imprenditore il Carlino andiamo nella pagina che verrà nel Pesaro in primo piano finalmente c'è l'ok per il Casellino dopo anni è arrivato il progetto ecco il Casellino di Santa Veneranda Società Osteostrade lo ha inviato al Comune ci vuole l'ok del Ministero perché Casellino si chiama Casellino cioè volgarmente chiamato Casellino perché non è più piccolo ma in realtà è soltanto unidirezionale quindi soltanto la corsia sud ne usufruirà quindi sia in entrata che in uscita la corsia nord dell'A14 non avrà il casello di Santa Veneranda e quindi è un casello a metà per cui Casellino percorso complesso a differenza delle altre opere la valutazione ambientale è a livello di enti statali sappiamo che questo è un sito dove anche le belle arti ci hanno un attimino focalizzato l'attenzione e quindi non è facile realizzarlo però pare che sia arrivato il progetto e vedremo come si svilupperà c'è anche la circonvarazione insomma tutte le opere accessorie è un'opera complessa ispettorato siamo nel lavoro un'azienda su due dipendenti in nero è in regolarità nel corso del 2015 sono state effettuate 609 ispezioni in provincia cresce il numero sono dati preoccupanti delle sanzioni per le violazioni in materia di prevenzione quindi questo è il dato scatturito dall'ispettorato del lavoro l'altra pagina che riguarda Pesaro e appunto ve l'ho fatto vedere anche nell'altra testata il rilancio di Marche Nord gli interventi importanti strutturali per i due nosocomi se i cantieri non si fermano tra un anno tutto sarà diverso con le nuove strutture una riorganizzazione complessiva quindi sarà totale il rifacimento delle strutture ma anche dei servizi ripartenza sono ripresi appunto i lavori nella palazzina bloccata da anni il padiglione F che sarà completato tra un anno la pagina del Carlino di Fano focalizza l'attenzione ancora una volta su Carignano quanto ci manca la via Crucis delle Terme la mamma racconta la sua vicenda dopo la chiusura ecco quali sono le alternative però insomma averla lì a portata di mano le Terme di Carignano non era non era poi così male disagi e ritardi a Cattolico o Galo di Petriano insieme alla figlia e al traffico per assicurarle le cure ultima pagina che vi faccio vedere quella del resto del Carlino che riguarda Fano l'evento da domani al via la 56esima edizione della festa dell'Adriatico la festa del mare e le sue genti con tutte le commemorazioni che in questi casi avvengono come sempre bene questa era l'ultima pagina che vi facevo vedere per oggi grazie per essere stati in nostra compagnia Occhio ai giornali torna domani mattina alle 7.30 puntuali e questa sera l'informazione con occhio alla notizia alle 20.30 grazie per essere stati in nostra compagnia buona giornata a tutti voi grazie per essere stati